grabbi che cazzu fata colgioni che cazzu fata stai ancora fermando ah mi diverto guardavi che cazzu fata aaaaah ooooh cazzuocco dove sei caglione come facciamo bravo questo venire su youtube esatto ti sei bruciato? no, io sono baciato il dito buono agito, muriatica, carta stagnola aspettiamo una speccia di fumogeno di merda si comincia a sentire la schiuma si sta corrodendo dobbiamo fare fumo con la corrodizione ok, ecco, fumo, fumo questo è un vero fumogeno, cangerogeno che vi uccide le palle si fa diventare un sacco eiii ancora meno di quello con le panene, finché fa un po' e dai che è più bello fuma come lordo si corrode come lordo e poi... ma brucia pure eh certo si corrode va 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 io lo so non è nata è diossida pure ecco il cangeroggio non ho respirato fine ci siamo indossicati ma fumati